Il trofeo Matteotti si correrà regolarmente. Una settimana fa era arrivato lo stop da parte degli organizzatori, a distanza di poche ore il passo indietro. Non è arrivata ancora la comunicazione ufficiale, però l'amministrazione comunale ha detto che si correrà e si svolgerà regolarmente la manifestazione. Cosa è accaduto in così poco tempo? Diciamo che io mi ero sentito con il dottor Ricci, organizzatore del trofeo Matteotti, appena avuta la comunicazione dell'annullamento. In quell'occasione avevo espresso il nostro grande dispiacere per l'annullamento di questa manifestazione, chiedendogli anche se ci fossero state delle possibilità di poterla rimettere in piedi e in quel momento lì queste possibilità non c'erano. Evidentemente c'è qualcosa che è cambiato, per cui già da questa mattina sono arrivate tutte le documentazioni da parte dell'organizzazione per poter organizzare il trofeo Matteotti. Noi come Comune interverremo con un piccolo contributo, credo che il grande contributo verrà dato dalla Regione. In ogni caso ritengo che ci sia anche un intervento da parte del Presidente della Regione per cercare di sollecitare un attimino il mondo imprenditoriale della città di Pescara perché perdere il Matteotti non faceva piacere a nessuno. Il centrodestra dice che il Comune di Pescara si è preso dei meriti che non ha. Voi cosa rispondete? Noi in ogni caso se c'è qualcuno che ci aiuta a livello di filiera istituzionale non è che lo rimandiamo indietro. Quindi siamo contenti che da parte del Presidente della Regione si sia mostrata questa grande sensibilità. Però ripeto, da parte nostra io posso dirlo senza tema di smentita che il giorno stesso in cui ho saputo dell'annullamento mi sono sentito col Dottor Ricci dandogli la nostra disponibilità nel cercare di fare tutto il possibile perché il trofeo Matteotti non venisse cancellato.